Ciao ragazze e ciao ragazzi, sono qua per parlarvi finalmente della Color Caramel, di questi nuovi trucchi, ne ho tantissimi, adesso li faccio vedere tutti quanti. Questi trucchi sono reperibili ovviamente per le bioprofumerie, negozi bio, infatti vi consiglio di consultare la lista che ho messo sul mio blog, appunto dove ho raccolto tutte le bioprofumerie, tutti i negozi bio, magari ce l'avete sotto casa e non lo sapete, quindi controllate. E oltre che ovviamente i negozi online, i soliti e-commerce, io li ho trovati dal sito bioecoif di Erika e Chiara. Per le ragazze di Napoli poi, questi prodotti si possono trovare anche dal negozio bellezza naturale, dove facemmo l'incontro un po' di tempo fa, se vi ricordate, e infatti io sono passata e anche l'ho preso qualcosina, come ad esempio questi smalti, inizio dagli smalti, faccio vedere, che è strano trovare degli smalti che sono eco bio. Questa qua è la base trasparente, ma la cosa bella è questo smalto qua, fucsia, che è un colore veramente fantastico e la cosa che mi piace è che basta semplicemente una passata per avere una coprenza eccellente e quindi mi piace perché ovviamente anche il risultato è ottimo. Il colore, che ve lo dico a fare? Estivo, fucsia, veramente mi piace tantissimo, è il mio colore preferito. Una delle cose che mi è piaciuta di più di questa marca Color Caramel è questa terra, questa è la terra numero 25 che ho io ed è un colore che mi piace molto perché è abbastanza neutro, cioè né troppo scuro né troppo chiaro, va bene per il mio colore di pelle e fa un effetto molto molto naturale. Sono ingredienti veramente pregiati dentro, quindi veramente ottimi. L'ho già detto negli altri video che vi ho fatto, sono di qualità superiore, quindi è come se voi comprasse per esempio un trucco in profumeria della MAC, della Makeup Forever, non lo so quali sono le MAC più famose che costano tanto, ecco così. Questi sono il MAC della Bio, dell'Eco Bio, insomma sono veramente il top. Ovviamente prende una terra che non ha siliconi, che non ha ingredienti nannosi, tutta naturale, state sicure che sul viso veramente non vi escono le impurità, è veramente una cosa importantissima. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta veramente veramente tantissimo, proprio tanto tanto, è questo lucidalabbra. Questo qua è l'822 ed è un rosso, però non è coprentissimo, è sempre lucido ed è un po' trasparente, quindi non fa un effetto ovviamente coprente troppo pesante, troppo troppo carino. Veramente mi piace tanto tanto questo lucidalabbra. L'altro lucidalabbra anche carino che ho provato è questo qua, l'814, che è praticamente a tutti dei brillantini, è neutro, tipo il colore del labbra, però è molto brillantinato, che quindi mi piace perché fa un effetto come sembra un po' volumizzante sulle labbra e mi piace applicarlo assieme a questo rossetto. Ve lo faccio vedere, questo qua, che è un colore neutro, tipo nude, molto chiaro, consistenza dei rossetti della color camera e mi piace. Di solito i rossetti ECOBIO non erano tantissimo coprenti oppure non duravano tantissimo sulle labbra e invece è una cosa ottima utilizzare ovviamente il rossetto ECOBIO, il rossetto naturale perché quello che mettiamo sulle labbra lo ingeriamo anche e poi ci assicura di avere le labbra idratate, senza pellicine, quindi che non si screpolano perché ovviamente sono tutti oli naturali. Poi ho provato questo rossetto, questo qua appunto l'ho preso al negozio bellezza naturale e loro mi hanno detto che questo qua è il rossetto più venduto in assoluto, quello più ricercato, il numero 254 e in effetti è un colore molto molto portabile perché è uno di quei colori che non può mancare perché è tipo un pescato molto naturale, molto semplice che va bene un po' con tutti i look, sia di abbigliamento ma anche di trucco, magari a volte mettendo dei trucchi particolari sugli occhi pare che i rossetti non ci stanno bene, invece questo qua va bene un po' con tutto, un rossetto da giorno e poi dura anche sulle labbra, ma la cosa più bella è che non le ammorbidisce, è come se mettessi anche un burro cacao sulle labbra perché questa è la cosa bella dei rossetti ECOBIO, che avendo tutti i burri e oli naturali, nutrono anche le labbra e fanno bene alle labbra, sopra poi ci passo questo lucidalabbra e fa un effetto nude chiaro, però bello lucido che sembra specchio, un po' volumizzante, mi piace tantissimo applicarli assieme, poi ho provato questo qua che è un fard ed è il numero 57, è un colore tipo rosa un poco antico, molto elegante, molto sofisticato, quindi che non dà molto nell'occhio, è molto discreto, mi piace però è molto molto pigmentato, anche di questo qua, cioè basta sfiorare col pennello e già subito dà molto colore alle guance, è molto elegante, è molto raffinato, mi piace insomma, dà quel tocco di colore però sobrio, insomma senza dare troppo nell'occhio. Mascara poi, il mascara, anche questo qua, vabbè questo è un mascara nero 11, ha questo scovolino, che come potete vedere è uno scovolino tipo di gomma, molto molto piccolino, sembra un po' sfigatello, dici ma invece no ragazzi, questo mascara è buono, comunque il suo lavoro lo fa, in ingredienti naturali, anche se avete sensibilità agli occhi, non so, occhi che vi lacrimano, un bruciore, questo qua può fare al caso vostro. La cipria, questa cipria qua è una cipria in polvere, ed è una cipria non proprio bianca, abbastanza trasparente, la cosa che mi è piaciuta di questa cipria, questa è tipo una polvere di riso, ha una consistenza impalpabile, però molto 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 setuosa, quindi la potete utilizzare, ad esempio per opacizzare, per fissare, ad esempio se mettete un po' di correttore e volete fissare, senza seccare troppo, ecco questo voglio dire che non asciuga poi tantissimo. Questa qua è piaciuta invece, per illuminare ho provato questo qua che è tipo un illuminante, Pearl Touch, questo è lo 05, ed è una polvere illuminante molto carina, in estate, insomma, sulla bronzatura, la si può utilizzare anche sopra qua, sulla palpebra, sotto al sopracciglio per illuminare, oppure sullo zigomo per illuminare, questo contiene 1,5 grammi di prodotto, ma è veramente tantissimo, perché ne occorre proprio poca poca poca, e dà un effetto super luminoso, molto molto carino. Come ombretti, questo non è proprio un ombretto, ma è un eyeliner in crema, praticamente, però è molto asciutto, cioè non è cremoso, è duro appunto. Questo qua penso che lo finirò in un'altra vita, perché è tantissimo prodotto, cioè io passo un po' coprendo il pennellino, quello là obbligo, appunto per fare la riga, cioè lo sporco proprio pochissimo, e mi faccio una riga veramente, ce l'ho anche adesso, l'ho utilizzato, l'ho sfumato però adesso, non siete brave come me, io non sono per niente brava a mettere l'eyeliner, quello proprio che già esce, diciamo, col pennellino, no, è liquido, io veramente sbavo dappertutto, invece questo qua mi trovo, insomma, mi sento meno cretina quando lo applico, perché appunto è asciutto, quindi sbava poco, e come ombretti ho provato questi due, anche qua c'ho le cialde, una mi si è distrutta appunto, queste cialde non fanno per me, questo qua è tipo un grigio scuro, che va un po' nel verde, anche questi qua, gli ombretti, sono super super pigmentati, veramente tantissimo, ho mai provato i ombretti Eco Bio, di marca Eco Bio così pigmentati, perciò vi dico che questa marca ha una qualità superiore, questo ombretto mi piace tantissimo, questo è verde, c'ha anche dei riflessi luminosi, dorati, mi piace, dolci sin fundo ragazzi, ho provato anche la BB Cream, veramente fantastica, poi caso mai della BB Cream, penso che vi vorrò fare un altro video, perché vi voglio proprio far vedere l'effetto, l'applicazione sulla pelle, voi se vi fa piacere, se lo volete, ditemelo, così io lo faccio, se no poi mi dimentico, ne faccio spesso, dico farò il video, poi mi dimentico, perché ovviamente ne ho tanti da fare, però di questo qua ve lo volevo proprio fare, perché è una BB Cream, anche questa qua, basta poco, ne lo copre le imperfezioni, penso che anche in primavera e in estate sia buono, anche per chi usa il fondotinta liquido, che ha qualche imperfezione, trovare un'alternativa, cioè una cosa più leggera, un po' più naturale, che però copre. Ovviamente ci sono i correttori, di cui già vi ho fatto il video, i correttori stick che adoro follemente, lo sapete, vi ho fatto il video, e anche il liquido, vi lascio tutti i link nei box informazioni, dove vi faccio vedere proprio l'applicazione, e poi, giusto per farvi vedere, ho conservato tutti gli scatolini per l'inci, perché ovviamente io non ve li dico, gli inci, per non dilungarmi, ma sono tutti inci fatti bene, perfetti, bellissimi, veramente stupendi, su cui non c'è nulla da dire, perché veramente sono inci perfetti, però, insomma, questo qua è quello del rossetto, come vi ho fatto vedere, 100% naturale, poi tutte le confezioni, vedete, sono tutte riciclabili, di carta, e c'è olio di ricino, ci sono tutte le cere naturali, c'è anche l'olio di mandorle, c'è il burro di carité, c'è l'olio d'oliva, insomma, tutti ingredienti naturali, niente a che vedere con i rossetti, non ne cobbio, veramente, quando usi uno di questi rossetti, è troppo bello, velo sulle labbra, è proprio confortevole, a differenza della paraffina schifosa, che senti proprio la plastica, senti sulle labbra quella roba brutta, e poi c'è il mascara, anche voglio dire linci, per farvi capire che è naturale, anche qua c'è l'acqua di rosse, c'è la gomma di acacia, c'è il gel d'olio vera, insomma, ci sono tanti ingredienti, tutti naturali, questi ovviamente, sono tutti certificati, questi prodotti, infatti se vedete, hanno tutte le certificazioni, non potevo non parlarvene, come vi ho detto, mi sono messa alla ricerca, veramente, tutto il web di questi prodotti, perché assolutamente, assolutamente, ve le volevo parlare, ci tenevo tantissimo, soprattutto per farvi capire, che non è vero, che il makeup eco bio, non è efficace, come quello non eco bio, molto spesso si sente dire questo, e invece no, perché veramente, il trucco eco bio, è una cosa che non può mancare, è una cosa fondamentale, come vi dico sempre, utilizzare creme, prodotti di cosmetici, eco bio, però anche il makeup, cerchiamo di utilizzare, il makeup eco bio, perché come potete vedere, non è vero, che il makeup eco bio, non è efficace, non è alla pari, di quello non eco bio, non è assolutamente vero, non ha nulla da invidiare, alle marche super costose, di profumeria, sono fatti da ingredienti, pregiati, ottimi, che non fanno male alla pelle, spero che questo video, vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile, fatemelo sapere nei commenti, se avete provato questi prodotti, e se li proverete, io vi mando un bacio grande, io e Cucino vi salutiamo, notizzato, l'ho sedato, non da più un morsi, ho dato un po' di volume, quindi vi salutiamo, Cucino, dai baci alla mamma, non vi dai baci, mi dai morsi, vi mando un bacio grande ragazze, ciao! Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti.